ah la parto io? partite via! vai 3 2 1... via! ciao a tutte ragazze e benvenuti in questo nuovo video io sono garlito sei qui come c'è? che c'è? andracce! ciao ragazzi oggi siamo su world of tanks si signore siamo su baia del pescatore eh già io sono a bordo dell'oviec panzer e 100 e andracce degli s4 eh si eh avete chiesto questo pacchi d'erma in tantissimi sui commenti dei vecchi video delle settimane scorse quindi eccovelo qua in tutta la sua possenza guarda che cannone guarda che bestia andiamo insieme ad andreone in città perché qui ci sono le alti tiglierie che ci fanno il culo! no mi sto perdendo! mi son perso! eeeh oh! type 4 ivy! ahia! quello è grosso babbo! oh cazzo e tu? ahia! nooo! l'ho tingato! vedo la penetrazione agli swammer! eh 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 minchia del nabbo! ahah! cosa ha il t92? l'arte ti ha peccato eh! mi ha matato tutta la vita! ahah! 700 di vita! aspettare una botta da 470 danni ne ho presa una da 1.200 anche di più di 92 di merda! essere in a1 perché mi ha preso lateralmente! gli insulti non mancano anche in questa partita! ops! scusami! ciao ciao t57 ivy! la fatta è finita di postarmi i m103! casomai! ahia le artiglierie porca di quella! dai! sono tutte lì dietro le artiglierie! e niente! la partita finisce qui! la partita finisce qui! madonna ma ripri! minchia che buco come ha fatto il type! ahialati! c'è il nabbo il 667! oh madonna c'ero quasi! ah bene! indietro c'hanno... c'hanno completamente aperto! io ci provo a tornare un po' indietro ma tanto mi sa che come giro qua mi ammazzano! il problema è trovare un buchino presso il coppa della teglieria qui! ottimo direi! ma porca di quella porca! che cazzo avrò fatto? avrò zollato il terreno di sicuro! sennò sarebbe stata mia! a casa ti è piaciuto a scoda eh? hai visto cosa succede? rompere le scatole a ogni s4! eh vaffan... il t49! prima di me ho vinto! dove mi ha preso il t49 per uccidermi? ho vinto! porca di quella maiala! andiamo ad andremo ad andremo ad andremo ad andremo ad andremo ad andremo ad andremo! brutta partita questa! porca! eh è molto brutta partita! molto brutta! 1.900 di danni! 2.000 bloccati! io direi di farne subito un'altra! sì aspettami finisce questa! non durerà poco ancora! guarda questa dov'è? hai visto dov'è l'artilleria? perché l'altra caramata che è morta là sotto, vicino alla barca, come è possibile che sia morto? come l'hanno preso? ha fatto un salto eccolo! 1390 nell'acqua! dai che ce la fai caro! però vedi che stanno l'ha colpito di vicino e ne ha fatto manco uno di splash, quando mi colpiscono il carro e boh gli stoggono 300, 400 e insomma avete paura di venire di qua? eh perché dai che in acqua ce la fate! eccoli! ah ma sai che forse non si può passare da lì su? ecco perché fanno tutto il giro da sotto, eccoli, ciao! ha preso ancora dietro! che culo! ma 121, spari? o fai finta? ma che pirlo! madonna lol! questo è un rng di obono! ah cazzo per poco! guarda che affogacca in 390! guarda che affogacca in 390! guarda lì! vogliono tutti! nooo! che roba ragazzi, che roba! bisogna sviluppare l'abilità apnea! eh sì, davvero, davverissimo! via, 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 via! pronto, subito! si riparte! battenza via! dai che questa partita sarà quella giusta, dai, dai! siamo sulla mappa Regione Polare siamo sempre a bordo dello Jagdpanzer 100 e andràci con l'IS4 I love my haters lol come nickname allora, vediamo un po' dove andare, te dove consigli? ma senti, io andrei sinceramente io andrei quasi qui sotto, sì, dove dice lui così almeno le artiglierie forse infatti siamo un po' più protetti da quelli let's go! dove vai, te sotto sotto o rimani? io vado in H7 stando sotto la montagna ah, sta lì sotto sì sì, proprio protetto da bestia oh, 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 oh IS7 è 100 Jagdpanzer è 100 vabbè, c'è un po' di gente, abbiamo capito, sì io mi sa che vado nel masso sotto sotto pensavo che è già arrivata del 100 eh sì che arriva sotto porca boia uuuuhuhuhu t'ho preso, bimbo? no, no, 200 ci sono qua qua sotto e insomma, lì sotto c'è un po' di gente, eh mi dicono che cazzo mi spari? idiota io santo ti ho preso sempre a fare gli alleati dopo G140 vuoi fare il pesante della situazione con un medio oh, il grill boia, non c'è più il grill ti sposti un pochino Andracci poi mi fai passare oh eh aiuto veloce il 100 lì no, quello mimetico non ho sparato lo fai sparare lì gli sparo anch'io madonna ha sparato ok, ha sparato però c'è l'altro che ha caricato eh sì anch'io ho caricato di Dion questo T-54 uuuh porca voia quella l'ha sentita aia quella le ha fatto malino insanne eh anche questa lei ha tornato in base Dio santo bene l'hanno ucciso molto bene dira dira eh sì in base non siamo messi benissimo eh oh cacchio e non ci sono ripari qui LOL guardare che bellino l'S-TB1 oh 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 madonna cari ragazzi queste si che sono volte ma che sono anche fuoco eh però qualcuno dovrebbe spottare eh eh indovina chi tocca perché c'è un M41 90 che sta fermo Non li vedo, porca troia. Mi hanno visto. Anche a me? Eh, vabbè. Li vedono. C'è anche un SS7. No, è Rue, è Rue. T49. Mira automatica! No, cazzo, troppo alto! Bella, questa difesa! Ciao. Io sono Carlitos, e tu chi sei? Tu sei matto. Porca voglia, c'ho in driver road, mi hanno rotto per due botte, in questa partita. Ma... Aia, che botta! Ah, insomma, ci sono da teghiarie. Gv100. Ci sono tante armi. 2200 danni li ho fatti. Anch'io, 3300. Io ho bloccato la corazza a 3.20 E fin qui ci siamo Io dovrei averne 1.800 bloccati Beh, questa partita è decisamente andata meglio di quella di prima Eh, la prima di riscaldamento Eh, già, anche quella è vera Eh, minca che sborona l'artiglieria Un colpo è via, stiga Che tiro l'ha fatto Ma perché sono tutti i più veloci di me? Fanculo Le voglio anch'io quelli Sto facendo 13 io Dovrei fare 43 No E per Andracce non c'è nulla Eh, anche per Carlone Però dai, una killa a testa l'abbiamo fatto Un po' di danni Il nostro l'abbiamo fatto Quegli 100 li abbiamo arati proprio Dai, ma ci metto 3 quarti d'ora per uccidere una cazzo di arti Ma che cazzo è Sì, perché ti danno l'ultima speranza, no? Sì, ma che te ce la potresti fare Invece no Invece è un cazzo Te la pilini il culo Invece è duro, infatti che arriva a fin là Perché presto la testa e sto fermo Perché ci mette tre ore sto carro Vittoria Eh, bene Seconda classe Un sacco di soldini Oh, oh, c'è un team killer Dai, dai Non siamo messi malaccio Va bene, va bene Questo video, ragazzi, finisce qui Mi raccomando Scriveteci nei commenti Quali altri carri volete vedere nei prossimi video Ovviamente se vi è piaciuto Spolliciateci Di brutto E ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao A presto E al prossimo Ciao